Un aritmologo di livello oltre che un carissimo amico e quindi essendo un aritmologo di livello sicuramente ci illuminerà sul sintomo sincope perché la sincope è un sintomo e successivamente deve essere correlato a patologie nello sportivo, cosa che siccome è molto frequente nella popolazione generale alla sincope ci sospettiamo che possa essere frequente anche nello sportivo. Sergio a te la parola. Sì grazie, grazie Germano per la presentazione, Maria Alberta ovviamente, lasciatemi però prima di iniziare la mia relazione su questo che è un argomento sicuramente molto sfidante, un argomento quando si parla di sincope che tutti quanti a varia misura, ognuno per la propria esperienza professionale piuttosto che per passione sportiva, sicuramente percepisce come uno degli elementi che più spaventano, che più allarmano, cioè avere una sincope durante l'attività fisica ma non solo, sicuramente pone dei dubbi e dei quesiti da un punto di vista diagnostico importante. Però lasciatemi fare una piccola riflessione su quanto stiamo facendo oggi e sul significato. Oggi è una bellissima giornata, prima Antonio Micillo diceva non è Natale se non veniamo al congresso di Cristiano Novelli sul mondo sportivo a 360 gradi. Io credo, a parte questa diciamo affermazione sicuramente vera e molto calorosa, che questo sia davvero, e non me ne voglia Cristiano, il congresso sportivo più importante della Liguria e non solo, che richiama numeri importanti, non è scontato riempire sale come questa, e che consenta a noi che amiamo questo mondo a vario titolo, di poterci confrontare, crescere, da un punto di vista professionale, di poter avere la possibilità di fare rete, di conoscere e avere l'occasione di incontrare personaggi pubblici sia in ambito sportivo ma anche amministrativo, in altri contesti, e poi perché no, non guasta per chi appunto ha frequentato il mondo sportivo, di poter magari incontrare vecchi amici e potersi raccontare alcune storie passate. Quindi davvero ripetiamo un grande applauso a Cristiano per l'impegno che mette in tutto questo. E questo congresso, che già di per sé ha un grande valore, credo che acquisisca ulteriormente tutto l'ambito sportivo, un ulteriore importantissimo valore, a fronte di quanto, come immagino molti di noi sappiamo, recentissimamente è stato pubblicato a livello costituzionale, una modifica che credo sia davvero un punto di svolta fondamentale a livello italiano, quantomeno anche da un punto di vista normativo. Questo impone al Parlamento di dover legiferare sull'ambito sportivo in maniera appunto costituzionale. Articolo 33 della Costituzione, quello che viene dopo il nostro amato articolo 32 che riguarda la salute, questo è un articolo che fino a ieri verteva intorno a un ambito educativo scolastico, oggi viene introdotta la parola sport. E si recita che la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Questo che magari è volato via in realtà genera da qui in poi nuovi orizzonti anche da un punto di vista normativo e questo sicuramente avrà un impatto importante nel nostro mondo sportivo e non solo, mi riferisco ad esempio a quello universitario. Ma arriviamo al dunque della mia relazione perché altrimenti divago. Sincope nel mondo sportivo. Ho già detto quanto questo sia uno dei sintomi che maggiormente ci colpisce e ci obbliga ad avere alcune riflessioni. Intanto iniziamo da un quadro epidemiologico, cioè di cosa parliamo in termini numerici. Nella popolazione generale l'1% dei ricoveri ospedalieri è determinato proprio da una sincope. Il 3% delle visite in pronto soccorso sono dovute a una perita di coscienza, adesso poi vedremo bene la definizione, ma comunque ad una sincope. E nell'ambito sportivo le numeriche non sono molto diverse. È un episodio abbastanza raro ma non così raro, si parla del 4%, un po' più alto rispetto a quello della popolazione generale, probabilmente, lo vedremo nel corso della mia presentazione, perché esistono dei fenomeni, dei trigger sportivo associati che possono facilitare l'insorgenza della sincope. E quindi sicuramente in un contesto sportivo parlare di sincope è molto importante, è molto attuale. Per fortuna, ed è il primo messaggio positivo che lancerò durante la mia presentazione, la maggior parte delle sincopi sono sincope di natura pressoria con dei risvolti positivi per l'atleta. Quindi definiamo le benigne. Ma allora, per cercare di percorrere il mondo della sincope, avere le idee un po' più chiare alla fine di questa giornata su cos'è avere una sincope e come gestire la sincope, ovviamente non possiamo fare altro che riferirci ai nuovi protocolli COCIS pubblicati quest'anno, che sono, come diceva giustamente Tiziano prima, un po' la Bibbia dell'ambito sportivo, medico-sportivo. Protocolli COCIS che tra l'altro hanno introdotto una grandissima novità per gli esperti dell'argomento, che conoscono meglio di me questi protocolli, sanno benissimo che c'è stata la novità dell'introduzione delle classi di raccomandazione dei livelli di evidenza che non erano così precedentemente, quindi oggi abbiamo quello che faceva vedere Cristiano, classe 1 sport consigliato, classe 3 sport controindicato, classe 2 discrezionalità proprio del medico dello sport, che quindi acquisisce ulteriormente nell'ambito della visita medico-sportiva valore nel proprio giudizio. Ma allora la sincope dentro questi protocolli c'è o non c'è? Io credo che sia francamente uno dei protagonisti del protocolli COCIS. Pensate che andando sul pdf del protocolli COCIS e digitando la parola sincope viene fuori 54 volte in 32 pagine diverse. Quindi sicuramente uno dei sintomi maggiormente descritti e raccontati all'interno dei protocolli COCIS. E allora arriviamo alla definizione. Ovviamente dobbiamo intenderci, quando parliamo di sincope, come per tutti i sintomi, come per tutte le parole che utilizziamo in ambito medico, la prima cosa fondamentale è chiarirci e avere la stessa misura di comunicazione. Cos'è la sincope? La sincope, lo leggo, è una rapida e transitoria perita di coscienza. È dovuta a una riduzione brusca e globale del flusso ematico cerebrale e ha tre caratteristiche specifiche che sono un inizio rapido, una durata breve e un recupero spontaneo completo. Questa è la definizione di sincope. Non va confusa, anche se alcune volte viene utilizzata in maniera non del tutto propria da un punto di vista terminologico, non va confusa invece con un altro termine che alcune volte abusiamo, che è quello della lipotimia. La lipotimia al contrario non è una perdita di coscienza, ma una sensazione di imminente perdita di coscienza che non necessariamente esita appunto con la perdita completa, quella che si chiama appunto, possiamo anche definire, presincope. Quindi si rischia la caduta a terra ma non necessariamente avviene in maniera conclusiva. E allora, andando avanti in questo racconto sulla sincope, parliamo dell'eziologia ovviamente, quali possono essere le cause di una sincope. Diciamo che grossolanamente le possiamo dividere in due. La causa pressorio-correlata, un abbassamento di pressione, quelle che noi definiamo neuromediate e ortostatiche, è una causa, ahimè, purtroppo, che è quella che maggiormente ovviamente spaventa numeri minori ma presente, una causa cardiaca, quindi una patologia cardiaca che può generare la perdita di coscienza. Ammetto subito che nel tentativo di differenziare questi tipi di sincope è fondamentale una parola ed una parola soltanto. L'anamnesi. In un'epoca medica nella quale ormai ci stiamo ipertecnologizzando sempre di più rischiamo di perdere il rapporto medico-paziente. Quindi l'anamnesi alcune volte viene relegata diciamo come elemento secondario. In realtà non in nessuno degli altri contesti medici quanto nella sincope l'anamnesi è fondamentale. È fondamentale chiedere in maniera dettagliata al paziente le modalità e come è avvenuto l'episodio di sincope perché grazie all'anamnesi, Germano che è un grande esperto internazionale di sincope, sa benissimo quanto in realtà la diagnosi possa già essere orientata in maniera proficua chiedendo bene al paziente quali sono state le caratteristiche dello svenimento. E allora, sincope neuromediata. La prima delle sincopi delle quali appunto vi accennerò. È una sincope pressoria correlata ad abbassamento della pressione, marcato ovviamente e repentino che può portare a perdita di coscienza e ci sono delle condizioni che predispongono, ed è per questo che è importante chiedere al soggetto come è avvenuta la sincope, che predispongono a questo abbassamento di pressione. Essere in piedi per molto tempo, magari in ambienti caldi ed affollati, avere situazioni particolari di stress, è tipica ad esempio la sincope quella del prelievo, la vista del sangue o comunque la paura della medicalizzazione, è una delle sincopi di abbassamento di pressione piuttosto tipiche, consuete. Ma ancora una post-traumatica, quindi prendere un colpo, avere un dolore, che non deve essere per forza determinato da un trauma, può essere un altro di quelli che noi chiamiamo trigger, che generano un'attivazione del nervo vago, o comunque, insomma, un abbassamento della pressione. Capite bene che in un contesto sportivo queste tre caratteristiche, sono tre caratteristiche piuttosto frequenti, e quindi uno sportivo può vivere queste condizioni. Pensate a una partenza molto affollata d'estate, tutti in piedi, dove magari si prolunga la partenza di una competizione, dove quindi c'è la parte caldo, c'è la parte stazione retta, c'è la parte affollamento, magari l'atleta è ovviamente preso dall'emozione del momento, e quindi insomma tutte condizioni che possono generare un abbassamento repentino della pressione, quindi un'ipoperfusione cerebrale fino alla sincopo. Ovviamente nella post-traumatica, non mi dilungo, ma lo sport può essere altro motivo di trauma, e quindi di sincope post-traumatica. Questa è una sincope per fortuna benigna, non controindica se identificata in maniera precisa lo sport, attenzione ovviamente a tutte quelle situazioni nelle quali avviene, perché avere una sincope comunque è un fenomeno traumatico di per sé, e ovviamente uno sportivo che pratica un'attività che può essere pericolosa, o comunque insomma un'attività nella quale è meglio non avere una sincope, questo può essere il problema. Ortostatiche. Queste sono sincopi che si chiamano così, e già la parola ortostatico ci dà un indizio, perché sono sincopi che avvengono nel cambio posturale, posturale, dalla posizione clinostatica, cioè dalla posizione orizzontale del soggetto, alla posizione verticale. Noi abbiamo un sistema, il sistema nervoso si chiama autonomico, periferico, una parte del nostro sistema, che è in grado di regolare precisamente la variazione di pressione a seconda della nostra posizione nello spazio. Se c'è una disautonomia, si chiama, cioè se c'è un problema di questo sistema nervoso autonomico, il rischio è che nel passare dalla posizione orizzontale alla posizione verticale non ci sia un adeguamento pressorio corretto, e quindi un calo pressorio con la sincope. Questo in realtà avviene anche nello sportivo, francamente non avviene molto frequentemente nello sportivo, è più tipico invece di altre condizioni, quello dell'anziano, magari con patologie disautonomiche, è tipica ad esempio quella notturna dell'anziano, che si alza di notte, deve andare a fare la pipì, passa dalla posizione appunto sdraiata nel letto, di notte di solito c'è già un calo fisiologico della pressione, va in bagno, non si siede, sta in piedi, sforza perché magari ha un po' di prostata, e sviene. Insomma però i traumi per i quali poi arriva magari in pronto soccorso sono anche traumi molto significativi. Bisogna poi trasferire un messaggio di positività, però insomma quando li vediamo arrivare con occhio gonfio e testa rotta, insomma il trauma può essere per l'anziano anche poi pericoloso, perché magari prende un anticoagulante o altri farmaci, ma questa è tutta un'altra storia. Nello sportivo, dicevo, è molto meno frequente, si diagnostica in maniera abbastanza semplice, misurando la pressione al soggetto, prima in posizione sdraiata e poi mettendolo in piedi, se ci sono difficoltà in termini di diagnostica, il tilt test è uno strumento utile, un esame che noi facciamo a sé estriponente. Dicevo, è benigna, anche questa, è rara nello sportivo, è associata invece molto più frequentemente a condizioni diverse, ad esempio l'anziano con patologia, diabete, morbo di Parkinson, piuttosto che altri. Cosa dobbiamo fare? O meglio, partiamo da, come dice Milea, a fuera, cioè cosa non dobbiamo fare? Prima di tutto non dobbiamo insistere, se abbiamo una sincope neuromediata nel voler tirare su il soggetto. Vi è mai capitato di assistere in vari contesti a qualcuno che sviene? Alziamo un attimo la mano per capire se... Ecco, vedete che sono abbastanza frequente. Ok, quindi, cosa non fare? Prima di tutto non cercare per forza di tirarlo su, o magari di fargli assumere posizioni strane, contorte, tirare sulla testa, non schiaffeggiare, è una cosa abbastanza tipica, classica, lo schiaffetto che si dà per cercare di far riprendere la persona è veramente poco, poco utile. Classica l'acqua e lo zucchero, bravissimo, che invece anche questa non ha nessun razionale, perché di solito quando uno ha una sincope neuromediata, 9 su 10 la diagnosi che si sente alleggiare nei contesti, diciamo, di sincopi neuromediata, avrà il famoso calo di zuccheri, bravissimo. E quindi perché non dargli la bustina di zucchero a uno che è bianco, cereo e continua a svenire. E quindi cosa fare? Semplice, sdraiare il paziente, tirare sulle gambe, tra l'altro si fa un figurone, ve lo garantisco, vi viene fuori l'applauso, e quindi insomma, molto banale a parte gli scherzi, però l'unica cosa da fare è questa, accompagnare la persona che sta per svenire, che magari ha un sintomo prelipotimico, e fare in modo che si sdrai e tiragli sulle gambe, in questo modo si riprende rapidamente. Altro discorso completamente diverso invece sono le sincopi cardiache. Qui entriamo nello scenario che tutti quanti ovviamente non vorremmo mai avere, cioè sincopi, abbassamento di pressione, generate da una perdita della capacità con tratti del cuore per un problema o meccanico o elettrico. Queste sono, diciamo così, messe in forte sospetto di fronte ad alcune caratteristiche abbastanza peculiari e sicuramente che dobbiamo cercare di identificare. Intanto il fatto che il soggetto che ha avuto una sincope abbia una storia familiare di morte improvvisa o di una patologia cardiaca. Il paziente che ti dice che ha una familiarità per brugada, per non fare nomi, piuttosto che sindrome del cutilungo, da altre forme, quelle che noi chiamiamo canalopatie, beh, insomma, se ha una sincope dobbiamo ovviamente tirare sulle antenne. Ma ancora le sincopi che avvengono in una condizione non da pressione, non da neuromediata, quindi in posizione sdraiata, notturna, o una sincope durante sforzo o immediatamente dopo lo sforzo. Il ciclista Colbrelli, bravissimo Cristiano, scusate, che ha avuto appunto un arresto cardiaco subito dopo sforzo, appena terminata una volata, è una tipica appunto momento nel quale purtroppo durante sforzo o appena terminato lo sforzo può avvenire una sincope cardiogena. Quindi il momento è molto importante. Ancora, il fatto di avere dei prodromi tipo palpitazione, cioè il paziente che dice ho cominciato ad avvertire un cuore che batteva in maniera strana e sono svenuto di colpo, la sincope cardiogena rispetto a quella della pressione è on-off. Lo vedremo adesso in un video. Non c'è tutto quel correlato che abbiamo visto prima di questo che continuava ad andare avanti nella resistenza allo svenimento. Nella cardiogena, se avviene il momento in cui c'è il blocco di flusso ematico cerebrale, il paziente sviene di colpo ed è molto traumatica anche da un punto di vista dell'aspetto, poi di quello che arriva in pronto soccorso. Ovviamente la presenza di una cardiopatia nota deve farti pensare ad una sincope cardiogena e ancora avere dei segni, ovviamente in quello che diceva Cristiano, l'elettrocardiogramma è il primo strumento fondamentale che dobbiamo mettere in campo. Se ci sono delle alterazioni pensiamo subito a una possibilità in termini di sincope cardiogena. È scontato dire purtroppo che è una sincope maligna e ovviamente apre degli scenari anche da un punto di vista dell'idoneità medico-sportiva ovviamente diversi. Questo invece è l'altro video che tutti conosciamo, quello di Eriksen purtroppo dei mondiali del 2020-21 dove l'Italia appunto è una uscita vincitrice. E in questo caso vedete nel fondo Eriksen che in un secondo, avete visto, non c'è nessun prodromo, cade e tra l'altro immediatamente tutti si rendono conto della gravità perché la sincope del resto cardiaco ovviamente pone in condizione il soggetto di completa perdita di coscienza mentre la sincope pressoria non è proprio così e non c'è la repentina ripresa di coscienza. Quindi sapete che nel giro di pochissimo per fortuna sono stati attivati i meccanismi di soccorso e in maniera tra l'altro molto efficace anche direttamente dai suoi compagni che insomma hanno cominciato le prime manovre e per fortuna oggi sappiamo che è una storia finita lieto fine ma insomma le immagini che hanno colpito il mondo sono state queste di una rianimazione in campo. Quindi altro contesto e altro mondo. Eriksen oggi gioca ancora non in Italia per la gioia di tutti i medici dello sport che insomma in Italia non sarebbero contenti vedo la Balbo piuttosto che del Pino di dare un'indicazione di questo tipo però in altri mondi anglosassoni dove il giudizio dell'individuo è ritenuto più importante del giudizio del medico e quindi poter giocare con un defibrillatore come fa Eriksen è consentito. Cosa dobbiamo pensare quando abbiamo ancora cinque minuti ce la faccio? Tre minuti. Ok. Cosa dobbiamo pensare quando abbiamo un sospetto di sincope cardiogena cioè quali sono le patologie alle quali noi cardiologi a questo punto dobbiamo rivolgerci? Molto rapidamente le cardiomiopatie ne ha già parlato benissimo Tiziano quindi non mi dilungo oltre le canalopatie non dobbiamo mai perdere di vista la possibilità che ci possano essere sbrugada cuti lungo cuti corto altre forme diciamo di alterazioni ioniche definiamole così. Patologia coronarica è molto frequente purtroppo nell'ambito della sincope cardiogena o comunque della patologia cardiogena non tanto la coronaropatia questa lo è ma soprattutto nell'atleta magari anche agonista anziano ma invece le anomalie coronariche che oggi per fortuna grazie all'attacca delle coronarie possiamo identificare con maggiore semplicità ma ancora avere una cicatrice quindi qui la risonanza molto importante per l'identificazione della cicatrice magari una vecchia miocardite un'infezione ne vediamo di queste cose o aritmie ventricolari identificate con vari strumenti o ancora aritmie che di per sé sembrerebbero più benigne le aritmie sopraventricolari ma che ovviamente possono esporre il soggetto anche ad una sincope e allora cosa fare? se abbiamo un sospetto di questo tipo dobbiamo fare dei test molto rapidamente tutti i test non sono riusciti a mettere foto del nostro reparto ma per questioni proprio temporali ma in realtà sono tutte cose che noi al Micone facciamo molto bene la prova da sforzo che sembra banale ma è un esame ancora molto importante se abbiamo ovviamente una sincope da sforzo o una sospetta patologia coronarica è ancora il gold standard tutta la parte di diagnostica elettrica mi riferisco agli alter sia che sia un alter di un giorno due giorni o se vogliamo chiedere a Germano il Ruti quindi l'alter settimanale o piuttosto quello event recorder cioè il correlato ad eventi comunque insomma tutta la diagnostica degli alter se abbiamo il sospetto che ci sia un'aritmia è molto importante se la sincope è rara e quindi non riusciamo con un alter a beccare l'eventuale aritmia non dimentichiamoci che esistono i loop recorder iniettabili oggi cioè dispositivi che sono veramente super miniaturizzati talmente che non vengono neanche più impiantati vengono iniettati ok sotto la pelle permettono il monitoraggio continuativo per anni addirittura del soggetto ma ancora ovviamente l'ecografia per escludere tutte le forme di cardiopatia strutturale l'ho detto la risonanza magnetica e infine lo studio elettrofisiologico quando il sospetto è molto forte di aritmia endocavitario quindi con dei fili dentro il cuore andare a studiare l'elettricità del cuore è molto molto importante flow chart questo mi rivolgo ai medici dello sport quindi arrivo alle conclusioni sostanzialmente è l'ultima diapositiva cosa fare se abbiamo un paziente che entra nel nostro ambulatorio che ha una sincope che ha avuto una sincope prima di tutto chiediamo la storia familiare di questo paziente quello che vi ho detto prima capire se ha una familiarità per qualche forma di patologia fare un bel esame obiettivo fondamentale non perdiamo il contatto con i nostri pazienti continuiamo a mantenere a toccare i nostri pazienti non guardiamo solamente la lastra e tutti gli esami diagnostici che oggi per fortuna abbiamo e facciamo l'elettrocardiogramma che è l'esame di base fondamentale se abbiamo degli elementi ad alto rischio cioè patologia cardiaca sospetta storia familiare di morte improvvisa o cardiomiopatia alterazioni all'elettrocardiogramma all'esame obiettivo sincope in condizioni che allertano quindi con palpitazioni durante esercizio on off quella che vi ho detto prima ebbene se abbiamo questa condizione esami di secondo livello sempre e poi gestione della patologia che viene fuori se invece abbiamo elementi a basso rischio quindi il contrario di quello che ho detto prima dobbiamo solo distinguere se sono sincopi recidivanti o meno perché se è un'unica sincope e non è recidivante la storia è già chiusa è una sincope benigna se ha le caratteristiche di benignità non alterazione all'elettrocardiogramma l'esame obiettivo è normale la storia è già chiusa al contrario se sono recidivanti dobbiamo pensare a test supplementari tipo il tilt test o il loop recorder ovviamente se uno è una sincope finché non abbiamo la certezza di qual è la causa dobbiamo quantomeno sospenderlo dallo sport e con le classi di raccomandazione che vi dicevo prima sincope neuromediate luce verde sì si va avanti a fare qualsiasi tipo di sport a meno che non sia recidivante sincope cardiogena purtroppo no chiudo la mia presentazione dicendo che la sincope è sì un fenomeno piuttosto raro ma non così raro nell'atleta e che sicuramente deve porre un po' di attenzione in più è normalmente un fenomeno benigno oltre all'80-85% dei casi ma ovviamente sta a noi medici dello sport in primis e poi cardiologi e tutti gli altri specialisti che ruotano attorno a questo mondo meraviglioso cercare di capire con precisione qual è la causa l'anamnesi è fondamentale manteniamo stretto il rapporto relazionale con i nostri pazienti ovviamente le caratteristiche in questo senso sono fondamentali nella descrizione e nella diagnosi della sincope l'atleta purtroppo va sospeso solo nel caso in cui facciamo una diagnosi di sincope cardiogena e quindi pericolosa grazie grazie Sergio per l'esaustiva relazione grazie a tutti grazie a tutti